40 minuti di sbrok 30 minuti di sbrok filmate anche col fisheye così a casa occhio poi guardiamo era una del figlio cazzo psss 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 colo mi sento più voglia oh ma è prima di un punto sopra filmato sto tipo qua mi ha mandato e ho detto che cioè non ce l'ha fatto se non non chiusi filmati 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 come non Grazie a tutti